Parliamo di Intel Core Ultra 200S, nuova generazione con nome in codice Arrow Lake. Per questa nuova generazione di processori ci sono delle nuove schede madri ed MSI mi ha mandato un piccolo pacchetto di benvenuto per riuscire un attimino a capire quella che fosse la situazione prestazione di questi processori al meglio e devo dire che per una volta mi trovo a dire che il pacchetto stampa era molto più interessante dei processori, ma ci arriviamo amici, ci arriviamo. Il pacchetto stampa che mi ha mandato MSI l'ho già unboxato per i social, quindi di per sé non è una novità se volete recuperare l'unboxing completo, è lì. Cosa comprende? Abbiamo una Meg Z890 Ace, che è una scheda madre top di gamma della loro nuova line-up e devo dire che è una delle schede madri più interessanti su cui abbia messo le mani, anche più interessante in realtà delle concorrenti che mi sono arrivate perché questa Z890 non solo ha le caratteristiche già viste sulle X870 come per esempio il Push & Lift, che in questo caso su MSI sono gli unici a offrirlo, non è soltanto sull'SSD principale controllato dal CPU, quello a metà della scheda madre, ma anche sulla zona degli SSD secondari. Secondo me è molto molto più interessante come concetto. Oltre a questo ha un input-output veramente assurdo, stiamo parlando di un quantitativo di porte come 4 USB-C, più di una decina di USB-A, ma soprattutto una porta Ethernet da 10 Gbps integrata. Onestamente hanno fatto un ottimo salto di qualità. Poi delle RAM DG Skill Trident Z5 con tecnologia QDIM, quindi hanno il clock timer integrato, due banchi da 24, 8200 MHz, e dopo vi faccio vedere dei test. Mag Core Liquid i360, un 360 mm, piuttosto interessante, comunque ha retto molto bene nel confronto con questi 200S, che comunque sono anche migliorati per le temperature. Questo l'abbiamo già visto nel PC monomarca che ho fatto qualche tempo fa appunto in collaborazione con MSI, quindi se volete andare anche a vedere un pochettino le sue prestazioni c'è quel video dedicato. E infine come processore un Intel Core Ultra 9 285K, l'attuale top T gamma, ma in questo video vedremo il 265K, l'Intel Core Ultra 7, perché secondo me è quello più appetibile per la maggior parte del pubblico che mi guardi. Però domani comunque recensione anche col top T gamma e oltre 8 processori di confronto, quindi di per sé domani alle 13 vi aspetto. Ad ogni modo, iniziamo. Prima di iniziare ragazzi sapete che le recensioni solitamente vanno un pochino peggio su questo canale, perché c'è tantissima concorrenza tra estero e Italia, vi chiederei di lasciare quindi like e commento per supportare il lavoro veramente enorme che abbiamo fatto io e il mio team per portarvi questa recensione al day one. Vi ringrazio tantissimo per il vostro aiuto. La nuova generazione di processori Intel ha il nome in codice Arrow Lake, ma soprattutto cambia la nomenclatura di presentazione, cioè quella che precede il numero del processore, ma anche quello effettivamente è stato cambiato. I nuovi Intel Core Ultra arrivano su desktop con una nomenclatura completamente nuova, infatti adesso non sono più per esempio i 9 14900K, ma sono Intel Core Ultra, in questo caso andremo a usare il 7, 265K, quindi la parte finale definisce quale sia il processore, il 7 definisce la classe e Intel Core Ultra definisce un insieme di caratteristiche che non sarò a approfondire in questo video perché serve un video dedicato per spiegarvi tutto, sono veramente tantissime cose, quindi fatemi sapere nei commenti se effettivamente vi interessi. Per quanto riguarda le testbench in utilizzo, queste sono le componenti che ho adoperato per recensire tutti i processori, sia AMD che Intel di nuova e vecchia generazione. Per quanto riguarda invece il lato software, in basso potete vedere che stiamo utilizzando tutte le impostazioni raccomandate per rendere al 100% precise queste recensioni, ed effettivamente anche Windows l'ho aggiornato alla 24H2 in maniera da avere il vantaggio sui Ryzen 7000 che effettivamente ha dato anche una scossa di vita al 9950X tra bui aggiornamenti x8 e 70 e poi anche la parte di Agesa. Devo dire, situazione comunque molto molto costosa, sono tre testbench top di gamma, soprattutto quello con la MSI Ace e la Crosshair Hero sono veramente notevoli. In ogni caso, giochi aggiornati, sistema operativo all'ultima versione e anche per quanto riguarda tutti quanti i driver e tutto quanto, ultimissime versioni disponibili al momento di questa recensione. I test sono stati fatti 4-5 giorni prima. Altra cosa molto importante ragazzi, per i test, siccome ho due 4080 Super uguali, effettivamente ho utilizzato queste schede, anziché la solita 4090. Il risultato è che nel gaming soprattutto si potrete vedere dei 7800X3D o 7950X3D che magari si esprimono un po' meno rispetto al solito, allignandosi più vicino agli altri processori. Questo è perché magari potrebbero ancora fare qualche FPS in più, Ma diciamocelo chiaramente, il contesto del 1080p con una 4090 è solo teorico, serve solo a noi per vedere la longevità del processore. Ma se utilizzo una 4080 Super o una 7900XT o XTX, effettivamente mi avvicino molto di più a quello che è un contesto realistico di utilizzo di questi processori. Sto tentando di sperimentare in questo senso, fatemi sapere la vostra opinione giù nei commenti, ad ogni modo ricordatevi che usando una 4090 potrebbe essere che per esempio il 7800X3D salga prestazionalmente ancora più in alto o un qualsiasi processore comunque che sia al top della classifica probabilmente avrebbe ancora modo di esprimersi ancora un po' di più. Però, ripeto, sarebbe un contesto abbastanza irrealistico. Nessuno usa una 4090 e 1080p, nemmeno una 4080 Super, però diciamo che scendere più sotto sarebbe inficiante per i test. Questa nuova generazione però non cambia soltanto i nomi, cambia anche l'architettura in maniera radicale. Effettivamente questa è la prima versione di processori desktop di Intel che integri Foveros, la nuova tecnologia di stacking 3D, ma soprattutto una composizione delle parti del processore chiamata tiling, vere e proprie mattonelle, che dividono le parti computazionali del processore in diverse zone, ognuna con il proprio scopo. Questo permette al processore di avere delle migliorie interne in termini di architettura, ma poi vedremo un attimino se questa cosa si riflette anche per quelli che sono i benefici finali dell'utente. La parola chiave per questa generazione da parte di Intel è stata la miglioria per quanto concerne l'ambito dell'efficienza e delle temperature, con addirittura dei grafici riportati per la parte prestazionale che riportano questi processori essere in pari con la generazione precedente, se non leggermente peggio in diversi aspetti e giochi, nonché programmi di produttività. Dopo vi metto le prestazioni e vediamo se è vero. Per quanto riguarda la struttura interna, abbiamo dei nuovi P-Core di categoria Lion Cove, accompagnati da degli E-Core Skymont. Non è cambiato soltanto l'architettura effettiva di questi Core, ma c'è stato anche un incremento per quanto riguarda l'IPC del 32% sugli Core e del 9%, almeno così dicono. Ora, Intel mi ha spiegato che ci sarebbe anche un cambiamento non solo nella struttura, ma anche nel modo in cui vengono interpretati gli E-Core, ovvero, mentre prima gli E-Core erano un po' un supportino del P-Core, il concetto di adesso è che gli E-Core, e su questo ci torniamo a fine video, perché secondo me è molto rilevante per una mia teoria, effettivamente lavorano come se fossero dei P-Core, cioè fino a che non si saturino completamente, avranno possibilità di esprimersi. Praticamente possono arrivare al 100% prima di far intervenire il P-Core effettivo per farlo lavorare, dove invece questo avrà sicuramente una potenza di calcolo e appunto una potenza in uso maggiori. Sono migliorate anche le questioni per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, con un totale di 36 tops, che però vengono espressi in 13 della NPU, 15 della CPU e 8 della GPU. Infine, cosa importante da notare nella line-up, ragazzi, è che hanno eliminato completamente l'hypertrading, ovvero potete vedere per esempio che l'Intel Core Ultra 9 285K ha 24 core e 24 thread, quindi non avremo più il raddoppio effettivo dei P-Core e quindi un totale di 32 thread, ma semplicemente saranno uno a uno. Questo per, a quanto pare, motivi di sicurezza. Questo si rispecchia su tutta la line-up e anche il nostro Intel Core Ultra 265K, come potete vedere, è un 20-20. Detto questo, direi che è giunto il momento di passare un pochettino alle prestazioni, ma vi dico che il discorso sarà molto lungo, quindi sedetevi e mettetevi comodi. Partiamo con un pochettino di prestazioni artificiali, con 3DMark, il suo test CPU è molto interessante per la valutazione del monocore e della massima prestazione con tutti i core. Come potete vedere, il 265K qui inizia bomba, con un single core veramente altissimo, di 1314 punti, anche sopra al 9950X e al 14900K che lo precede, il tutto con un consumo nettamente inferiore a cui arriviamo dopo. E anche la situazione in multi-core sembra veramente, veramente assurda. Soprattutto considerato che in realtà ha meno core del 14900K e del 7950X3D in fondo alla lista, anche se quel processore di AMD è un pochettino abbissato dalla suonatura di X3D. Discorso che ci fa anche sperare bene per quanto riguarda Cinebench 2024, nuovamente il miglior single core di tutta la categoria di processori che abbia testato, il che è veramente notevole. Certo, perde in single core contro il 9950X, però c'è a dire che quel processore si può permettere di consumare più di 200W e questa cosa onestamente potrebbe aiutare. Diciamo che comunque se la cava bene. Se dovessi valutare questo processore da solo questi due test, vi direi che è veramente fantastico. Bravi Intel. Però ovviamente non è così. Passando alla produttività, prendiamo per esempio 7-Zip, che è un programma che adoro per testare i processori, ci dà delle prestazioni molto interessanti e come potete vedere AMD qui prende un vantaggio notevole sui due 16 core, sia X3D che normale, con 256 punti pari per quanto riguarda la decompressione, e un punteggio di 4 punti maggiore per il 9950X. Dobbiamo scendere invece parecchio in fondo per trovare il nostro 265K, che come potete vedere si paragona abbastanza vicino nella parte di compressione al 7700X e sta sotto al 14700K per quanto riguarda invece la decompressione. Diciamo che sono delle prestazioni assolutamente non in linea con quanto abbiamo visto fino ad adesso sui due benchmark artificiali. Blender Open Data permette di valutare le prestazioni in render e gestione dei modelli 3D all'interno del programma di Blender. Per quanto riguarda la situazione, qui abbiamo un 9950X che domina assolutamente la classifica. Potete vedere che effettivamente batte anche il 14900K e questa cosa c'era già stata confermata dalla recensione ufficiale di questo processore, che oltretutto, devo dire, è migliorato parecchio rispetto ad agosto. Per quanto riguarda il nostro 265K invece, potete vedere che si posiziona sotto al 7950X3D, cosa comunque notevole, visto che quel processore è uno dei migliori 16 core sul mercato, anche se ovviamente l'X3D mi faceva sospettare che sarebbe stato un po' inferiore, visto che in produttività solitamente la grande cache 3D non aiuta. Per quanto riguarda il 265K, comunque si mantiene bene sopra al 14700K con un leggero vantaggio, per quanto concerne Classroom e Monster, che sono due dei benchmark che beneficino principalmente della zona del multicore. Fino a qua, esperienza ok. Corona Benchmark realizza un render complesso di un'immagine e in questo caso potete vedere come il 265K mantiene una linea prestazionale abbastanza simile a quella appena vista, ovvero poco sotto il 7950X3D e sopra il 14700K. Anche qui si nota che il multicore di questo processore non viene assolutamente inficiato dall'assenza del multitrading, che invece aiuterebbe, secondo la parte teorica, il 714700K. Molto molto più sopra del 7700X e 7800X3D, quasi il doppio dei punti. Effettivamente la prestazione qui è molto interessante. Ho voluto testare anche qualcosina nel ramo dell'intelligenza artificiale con Geekbench AI. Questo è un programma che valuta un po' le prestazioni in diversi contesti di utilizzo dell'inferenza dell'intelligenza artificiale, della generazione di immagini e cose del genere per i nostri processori. Prima di tutto utilizziamo il pacchetto ONNX, che è quello un pochettino più generalista. E qui vediamo un 9950X che stradomina la classifica, con un distacco veramente notevole rispetto agli altri processori assolutamente in ogni ambito. Questo processore per l'intelligenza artificiale ha qualcosa di veramente magico. Se non consideriamo però il risultato nella colonna bianca, la Quantisize Precision, effettivamente potete notare come il 265K comunque abbia un'ottima prestazione per quanto concerne il mondo delle intelligenze artificiali. Soprattutto sopra ai suoi precedenti compagni 13900K e 14900K. È ben lontano comunque. Ma come potete vedere, effettivamente quando si esce da Full Precision e Half Precision, potete vedere come AMD effettivamente abbia un predominio veramente interessante o comunque forse i consumi aiutino particolarmente perché anche il 13900K e 14900K riprendono terreno. Intel però dispone di un pacchetto per le intelligenze artificiali che si chiama OpenVINO che va a ottimizzare un pochettino quelli che sono i processi di utilizzo appunto della NPU. E siccome di casa Intel si sospetterebbe che dia un beneficio a Intel. No! Guardate il 9950X! È imbarazzante! Raga, l'ho ripetuto 12 volte questo test con due schede madre diverse, due configurazioni, va sempre in quella linea. Il 9950X con OpenVINO beneficia tantissimo di questa tecnologia. Direi che Intel potrebbe essere più che soddisfatta di questo risultato. Non hanno fatto preferenze per il proprio hardware. Guardatelo lì, il 9950X che si distacca in maniera terribile dalla generazione precedente. Va bene. Invece il nostro 265K non sembra in realtà beneficiarne, anzi perde qualche punto effettivo nella classifica spostandosi al quarto posto il che è abbastanza strano. Però mi ha fatto molto ridere il 9950X che per qualche motivo con OpenVINO è esploso. Evidentemente la loro NPU funziona particolarmente bene come combo totale insieme alle altre parti del processore per questa particolare funzionalità di Intel. Questi tool di Intel beneficiano AMD. Va benissimo. Arrivando invece a Indigo Renderer possiamo vedere un 9950X che nuovamente domina la parte alta della classifica anche se ha qualche concorrente comunque nella zona di Supercar con poi un 265K che invece finisce abbastanza in basso nel senso in linea con il 14700K quindi di per sé non è una prestazione pazzesca strani invece i due 7000 che finiscono veramente molto molto più in basso. Passiamo infine al pacchetto di Adobe. Da una parte abbiamo Premiere Pro che effettivamente quest'anno sono riuscito a testare abbondantemente grazie alla suite di Puget. Come potete vedere anche qui nuovamente il 9950X che domina assolutamente la classifica seguito a stretto giro dai tre processori dei 14000 infine il 7950X 3D che in questo caso devo dire ha una prestazione veramente notevole ma allineata a quella dell'i7 infine il 265K con un leggero distacco potete vederlo sotto al 7950X 3D e poco sopra il 7700X insomma non una prestazione eccellente in questo caso ma a fine video vi condivido quelle che sono alcune delle mie conclusioni a riguardo. Discorso invece completamente diverso per Photoshop 2024 dove potete vedere che più o meno gli altri processori tirano delle abbondanti manate con AMD che domina completamente la classifica un 7700X a corpuri che effettivamente riesce anche a sbaragliare il 7950X 3D il che è notevole ed effettivamente lasciano un distacco importante rispetto alle precedenti generazioni di Intel ma soprattutto rispetto al 265K che finisce veramente in fondo. Se usate Photoshop considerate AMD perché a quanto pare tira delle belle manate dove serva la CPU. Interessante. Arrivati a questo punto ragazzi diciamo che il 265K inizia a mostrare qualcosina che non torni no? oscillazioni molto molto ampie ma aspettate perché nell'ambito del gaming la situazione è ancora peggiore. Allora per quanto riguarda il gaming la situazione è veramente terribile. Cyberpunk 2077 abbiamo un 7800X 3D che si esprime in maniera egregia con 5 fps in più rispetto a tutta la line up precedente potete vedere anche che il 9950X ha ripreso qualche piccolo piano prestazionale non stando più sotto al 7700X ma in linea con gli altri grossi mentre il nostro 265K ha deciso che non si funziona oggi. Ho ripetuto questi test decine e decine di volte per tutti i giochi ragazzi ci tengo a dire veramente ci ho perso giorni sul 265K e 285K la situazione è questa le prestazioni non sono assolutamente poco sotto la generazione precedente ma ci sono quasi 30 fps in meno rispetto al 13900K e 14900K e ci tengo a dire una cosa molto importante non ho limitato il 265K sto utilizzando il profilo MSI Extreme Performance senza limiti quindi di per sé si può esprimere come vuole Formula 1 2024 ci riporta una situazione analoga con soltanto gli i9 della generazione precedente che dominano assolutamente la classifica ma Intel su Formula 1 è sempre stato un processore particolarmente performante almeno per la mia esperienza poi dipende dal contesto e il 265K invece rimane nuovamente al fondo della lista con una distanza di 30 fps dal 7700X situazione abbastanza particolare devo dire perché onestamente c'è un problema di fondo alla fine dei benchmark ve lo spiego c'è stata tuttavia una sola volta in cui nei miei benchmark per qualche motivo il 265K a un certo punto si è comportato in maniera anomala e mi ha dato un risultato che in realtà sarebbe più interessante come potete vedere in questa classifica c'è un 265K che recupera questi 23 fps che onestamente non sono pochi sono più di un 10% e si va ad allineare poco sotto al 7700X non che sia la prestazione che dovrebbe avere però secondo me questa anomalia e dopo ci torniamo è un qualcosa che ci segnala un malfunzionamento di Windows nei confronti della nuova architettura Intel lato desktop anomalia invece su Age of Mythology Retold gioco che è uno strategico va sicuramente a osteggiare i processori sul multicore però come potete vedere il 265K si allinea al top delle prestazioni è il miglior processore in assoluto di tutti quelli testati ed effettivamente fornisce una performance assolutamente valida per il titolo diciamo che è anche un titolo che non è che sia pazzesco in termini di richiesta è comunque una remaster di un vecchissimo gioco però è interessante vedere come in un contesto praticamente simile a quello della produttività più che di un gioco effettivo cioè tante cose insieme da gestire un render costante praticamente il processore performi bene ripeto c'è qualcosa che non va Assassin's Creed Mirage è un gioco che in 1080p beneficia tantissimo della 3D vcash specialmente quella del 7800X 3D che come potete vedere scavalca leggermente i vecchi 9 poi 9950X e infine se andiamo al fondo della classifica troviamo un 7700X accompagnato dal 265K che però ancora non si riesce neanche a opporre a questo piccolino che ci tengo a dire che poi prestazionalmente nei giochi non è tanto lontano dal 7600 queste sono prestazioni da 7600 non va bene ragazzi non ci siamo Black Mifu Kong è un gioco che un pochettino ci fa apprezzare meglio questo processore ma semplicemente perché sottoperformano un po' tutti cioè nel senso come potete vedere la 3DV Cache non dà grandi differenze prestazionali i vecchi 9 se la cavano particolarmente bene e dal benchmark integrato semplicemente impariamo che praticamente un processore vale l'altro a meno che non abbiate scelto il 265K allora in quel caso farete un 8fps in meno rispetto ai migliori o rispetto al 7800X 3D ne farete sì wow 8fps in meno o 12 in meno rispetto alla classifica più alta io ve lo dico c'è qualcosa che non va per quanto riguarda il gaming avevo come al solito fatto anche dei testi in Fortnite e dopo aver testato tutti gli altri processori sono arrivato a utilizzare i 200S ma mio malgrado ho scoperto che questi processori causano crash completi su Fortnite almeno prima del lancio ovviamente poi lo sistemeranno io ho già segnalato tutto a Intel passato log spiegato la situazione come avviene questa cosa ma sembrerebbe praticamente che l'anti cheat di Fortnite causi dei crash come potete vedere in questa clip non appena si apre il gioco effettivamente crashano questo succede solo sui 200S e indistintamente tra il 285 e il 265 per questo io continuo a dire secondo me c'è un problema di compatibilità con Windows infine ragazzi come vi ho detto all'inizio video io ho fatto anche i test delle RAM in questo caso sono andato a utilizzare dei banchi da 6000MHz da 7200MHz e da 8200MHz però qua ci tengo a fare una doverosissima promessa gli 8200MHz non sono due banchi da 16 ma due banchi da 24 e di questo ero un po' sospettoso perché avevo paura che la capacità maggiorata influenzasse positivamente al loro favore i test ma tranquilli non è successo niente perché non cambia letteralmente nulla allora ripartendo dalla produttività potete vedere come il 265K effettivamente abbia un beneficio prestazionale nell'aumento delle RAM su Blender per quanto riguarda appunto le 7200MHz in particolare sono quelle che causano un incremento prestazionale più sensibile allineandosi meglio come potete vedere rispetto a 7950X3D e colmando un pochettino la differenza prestazionale discorso invece è completamente inverso con le 8200MHz che tendenzialmente soprattutto nel contesto della produttività dove la capacità della RAM conta effettivamente non c'è un beneficio di sorta cioè nel senso qualcosina sì ma veramente siamo nel margine dell'errore percentuale onestamente non lo considererei una vittoria soprattutto considerato che le 8200MHz hanno un costo nettamente maggiore rispetto alle 7200MHz ma comunque non ci spostano da quello che è il piano prestazionale nessuna delle due rispetto a prima Corona è un benchmark in cui invece c'è un incremento pazzesco con le RAM giuste non so perché ma potete vedere che 7200MHz danno una botta di vita incredibile a 265K che va a stare solo poco sotto al 9950X con un incremento di praticamente 2500 punti rispetto alle 8200 e invece alle prestazioni con 6000MHz incredibile genuinamente incredibile questa è la cosa più assurda di questa generazione di processori ha tirato fuori i muscoli in una maniera assurda questo è l'unico caso ci tengo a dire indigo renderer situazione abbastanza simile con 8200MHz che ci danno un piccolo vantaggio idem le 7200MHz che come al solito sono le migliori ci danno effettivamente un centinaio di punti in più per quanto riguarda Bedroom e un 300 punti in più per quanto riguarda 250 per quanto riguarda Supercar comunque rimaniamo nello stesso range prestazionale di prima Premiere Pro è un programma che beneficia abbastanza ma comunque non ci sposta ancora dallo slot occupato precedentemente dal 265K nuovamente 7200MHz sono le RAM che ci danno il beneficio maggiore rispetto alle 8200MHz ma comunque come potete vedere si colma un pochettino il gap con il 7950X3D ma non si va assolutamente a superare quest'ultimo nuovamente per quanto riguarda invece il gaming Age of Mythology ci conferma semplicemente il predominio incredibile del 265K con 1800 e 1815 punti nuovamente le 7200MHz sono le RAM che ci danno il beneficio maggiore in assoluto anche se comunque stiamo parlando praticamente di un 1% non è che ce ne importi molto in questo caso Black Mifu Kong invece potete vedere tra 6000 7200 e 8200MHz non c'è differenza siamo letteralmente all'FPS spaccato 104.95 in tutti e tre i casi e nuovamente siamo sul fondo della classifica assieme al 9950X quindi assolutamente non è cambiato niente Cyberpunk 2077 altro gioco in cui effettivamente c'è un incremento prestazionale piuttosto interessante qui potete vedere che 7200MHz ci danno un beneficio di quasi una ventina di FPS siamo comunque sotto a 7700X però un po' come visto prima con l'anomalia di Formula 1 2024 io continuo a dire che probabilmente se Intel sistema qualcosa con Microsoft su Windows questi processori potrebbero diventare interessanti soprattutto in vista dei consumi che vediamo tra poco ad ogni modo nuovamente non ci muoviamo di classifica ma recuperiamo delle prestazioni interessanti a 7200MHz comunque più di un 10% io personalmente lo considero una vittoria anche se alla fine non ci interessa giocabile certamente però di per sé indovinate anche Formula 1 2024 semplicemente riprendiamo qualche FPS in questo caso veramente pochissimi semplicemente 5 FPS sia sul 1% low che appunto sulla parte di media degli FPS siamo ancora lontani da 7700X siamo ancora nella parte inferiore della classifica per fare un ricapitolo abbiamo una media di FPS per i giochi che escluda semplicemente i Geof Mythology perché non è calcolabile in FPS insomma potete vedere come utilizzando una 4080 Super e con Formula 1 2024 che in realtà un pochettino dà un beneficio ai 2i9 della generazione precedente praticamente la classifica ci porta a un 265K che sta abbondantemente sotto il 7700X e viene assolutamente distrutto dal 7800X 3D non siamo troppo lontani però secondo me c'è un discorso importante da fare cioè che quella che è stato il cavallo di battaglia nell'esposizione di Intel per questi processori alla fine non sussiste se aggiungiamo il contesto delle RAM potete vedere come si recuperano 8 FPS sparsi tra tutti i giochi con 7200MHz ci si avvicina un po' di più al 7700X ma nuovamente come è stato per tutti i test non si scavalla neanche una posizione quindi di per sé raga triste situazione triste in 1080p questi processori sono assolutamente infelici ora consumi parliamo un pochettino di queste delle temperature su queste ultime onestamente io non ho niente da dire questi processori hanno delle temperature veramente ottime il 265K in gioco è praticamente inesistente è freddissimo secondo me si potrebbe raffreddare altro che con un 360mm letteralmente soffiandoci sopra questo apre tante possibilità per quanto riguarda la dissipazione potendosi riferire ad i dissipatori ad aria nettamente meno costosi e ingombranti il che è molto positivo perché effettivamente per l'esperienza del gaming non sarà necessario spendere tanti soldi per un 360mm ma magari anche soltanto un 240 o un buon dissipatore ad aria come per esempio il Thermalright Peerless Mini effettivamente saranno delle buone soluzioni fantastico in te veramente bravissimi se i vostri processori performassi in linea con la generazione precedente in questo momento stare applaudendo per quanto riguarda però i consumi che sono stati il vero e proprio cavallo di battaglia in realtà ragazzi vi posso dire che sì sono più bassi non c'è niente da dire su questo sono più bassi della generazione precedente anche un pochettino di alcuni contesti di AMD però effettivamente se io prendo un 14700 che è un processore che può spingere i consumi in maniera abbastanza alta e lo paragono al 265K in questo benchmark su binari di Cyberpunk potete vedere che sì effettivamente c'è una differenza nei consumi consistente che di per sé pone questi processori come molto buoni rispetto alla generazione precedente però di per sé se poi io introduco nello stesso modo anche il 7800X3D potete vedere che alla fine questo predominio di mercato non si pone perché gli X3D sono dannatamente efficienti già di natura e non hanno bisogno di vantarsi nelle slide per renderlo la loro feature principale ce l'hanno in aggiunta delle prestazioni che di per sé anche in un contesto più realistico come quello della 4080 Super dimostrano una longevità maggiore diciamo che poi in base alla scheda video che ci andremo ad abbinare e alla risoluzione di utilizzo ovviamente tra questi processori si affievoliranno quelle che sono le differenze prestazionali però di per sé ragazzi io continuo a dire che questa generazione ha qualcosa che non va e vi faccio anche notare una cosa proprio in questi benchmark di Cyberpunk la scheda video non sta andando al 100% per tutto il tempo nemmeno al 90% siamo alla metà praticamente di quel valore perché? perché ragazzi effettivamente questi processori hanno qualcosa che non va non succede in tutti i giochi ci tengo a dire che ho altre clip effettivamente potete vedere come la scheda video lavori tranquillamente ma proprio in un gioco che ha dato grande vantaggio agli altri processori e sminuito il 265k io continuo a dire che ci sia un'anomalia in cui il processore non è praticamente capace di reggere una scheda video che di per sé anche un 7700x o 7600 sono perfettamente in grado di sostenere nel contesto del 1080p senza esagerare verso i 400 fps e allora mi viene da dire che probabilmente questa generazione ha qualcosa che non va perché sì consumi migliori temperature migliori nuova architettura nuova costosa scheda madre da prendere per poterle utilizzare con socket lga 1851 che di per sé non si sa nemmeno se avrà un refresh di harolek o se si salterà direttamente da una prossima generazione con novalek nel 2026 o 2025 con proprio nuove schede madri che cambino completamente tutto benefici dalle ram ce li hanno a 7200 mega sin dubbio però di per sé non ci portano neanche sopra al 7700x nella maggior parte dei giochi io dico e qui spero che venga contestato in realtà dai test dei miei colleghi ma ho già parlato con un po' di loro in realtà siamo tutti abbastanza allineati non capisco onestamente non capisco non è una buona generazione è molto insipida e mi spiace anche dirlo perché Lunar Lake basandosi sugli stessi concetti è una generazione di processori mobile veramente eccellente se avessero fatto la stessa cosa che hanno fatto su Lunar Lake su desktop sarebbero stati dei processori incredibili contestando il predominio di AMD non dico tanto negli X3D quelli sono assurdi però in un processore all around un processore che effettivamente si possa utilizzare in tantissimi contesti diversi sarebbero stati molto molto interessanti specialmente con questi consumi io continuo a dire magari una persona che lavora in un ufficio dove hanno 10 15 20 macchine contemporaneamente avere dei consumi inferiori ti aiuta perché effettivamente se prendiamo dei paragoni con malamente il 13900k possiamo vedere come questo processore abbia dei consumi inferiori è vero è oggettivamente vero però al tempo stesso non sono così inferiori cioè nel senso il momento in cui questo processore va in carico il suo profilo base di utilizzare un power limit da 250 watt e guai se lo lasciate sbloccato perché effettivamente potrà superarli e alla fine si allinerà con cosa? con le generazioni precedenti semplicemente con un pizzico di watt in meno ma che superati 250 watt onestamente mi interessano anche relativamente poco nel contesto del gaming rimane fresco rimane poco energivoro però di per sé non lo so ragazzi secondo me c'è qualcosa che non va con Windows ed è anche per questo che non ho approfondito ulteriormente i test perché onestamente mi sembrava di sparare sulla croce rossa ogni volta che avviavo qualcosa fatemi sapere la vostra opinione nei commenti noi ci vediamo domani con il 285k nella speranza di risollevare un pochettino le sorti di questa generazione specialmente per i produttori di schede madri che in realtà hanno fatto un lavoro abbastanza buono devo dire sono molto interessanti domani Z9090 Hero ci vediamo lì al prossimo video voi stati su Marden Tech sono USA